Ora vorrei il caffè. Sono sotto attacco nella cabina del capitano. Michelson è ferito. Non posso farcela da solo. Richieda assistenza in veniamo. Raspost, riempiti. Vieni duro, evitiamo. Forza, muoviamoci. Dobbiamo raggiungerlo. Raspost, non lo faccio da solo. Sono arrivati sotto coperta. Adesso tutti giunti. Splendente! Resta è un'opera del motore. Via di qui! Via! Via! Stronti, mi avete nominato i soldatori! Perdiamoli, prima che vadano sotto coperta! Buon appetito. Granata! Diamoci una mossa! Dobbiamo aiutare Prescott! C'è qualcuno vicino ai comandi dell'ascensore? Azionatelo! Ricevuto, Fenix! Un drag! Fuoco! Fuoco! Fuoco in Cambusa! Squadrant in centro alla Cambusa! Fuoco! Fuoco in Cambusa! Squadrant in centro alla Cambusa! Squadrant in centro alla Cambusa! Moderega tutte le unità K.R. in missione! Gli splettenti ci hanno... Un incendio! Presto! L'estintore! Presto! Spegniamo gli incendi! Spero che Presto non sia morto! Non attimo! Cozz'è? Francesco è pericolo! Faccio arrabbiare! Capicà! Perfetto! Tapicà! Capità! 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 Minacatela! Capità! Qua? Quanto sangue! Devi decollare! Perché no? Trova qualcuno che lo faccia! Ah, benissimo! Resta in attesa! Michelson è fottuto! Phoenix, dirigente via L'Hangar! Elicotteri sotto attacco! Dobbiamo farli decollare, subito! Sei ferito? Sì, ma io... Allora resta qui e non muoverti fino al nostro ritorno, è chiaro? Cercherò di non farmi ammazzare, sergente! Ecco, bravo! Non sono un tipo loquace, ma quando torno, noi due dobbiamo parlare un po'. Ora ci occupiamo degli elicotteri, poi torniamo ad aiutarti, d'accordo? Dovevamo legarlo a un tubo, nel caso tentasse di sparire di nuovo. Senza il suo elicottero non va da nessuna parte. Delta al ponte L'Hangar, unità KR, c'è qualcuno laggiù? Dobbiamo far decollare qua i Raven! Delta qui KR-03, il mio elicottero è stato attaccato, l'equipaggio è morto, mi serve aiuto. Tieni duro, stiamo arrivando! Tieni duro, stiamo arrivando! Oh, merda, sentito, sembrano altri formi! Oh, merda, sono delle condutture! Fatemi fuori, c'è un pilota che ti aspetta! Attenta bene! Oh, merda! A presto! E' fuori! Prescott, sei ancora lì? Non sono ancora morto, se è questo che vuoi sapere, sergente. Giusto per sapere. Non vorrei rischiare di perderti di nuovo. Va bene lo stesso. Ci siamo quasi. Dobbiamo solo attraversare la cambusa. Datemi una mano! Ne la siamo vista brutta qua giù, Fenix. Abbiamo perso molti uomini. Le ravel non possono ancora decollare. Ok, se ne occupiamo noi. No! Copriteci sul fianco! Capito! 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 Forza, portiamo l'elicottero fuori di qui! L'ufficiale del bot è morto, non possiamo azionare l'ascensore! Pensa a far decollare quel rame! Ci occupiamo noi dell'ascensore! Piccolo ritardo, prima dobbiamo eliminare quei mostri! Sono ridotto! Sono a secco! Resto, alla cabina di comandante! Puzza! Ma di che cosa sono fatti, di merda? A posto così! EU, ne resta un altro! KR-03, siete pronti al decollo? Sono bloccato nella zona 3, mi servirebbe una mano! Tieni duro, stiamo arrivando! No!